Cale la curva dei contagi e diminuiscono anche i ricoveri in ospedale, sono 99 i pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta, il numero più alto è stato riscontrato a Caltanissetta con 28 pazienti positivi e 28 a Gela. 16 sono di San Cataldo, 8 anniscemi, 7 di Mazzarino, 3 di Mussomeli e poi un paziente per Paese, Acquaviva, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Sera di Falco, Sommatino, Vallelunga, Pratameno. Invece sono stati ricoverati in degenza due pazienti di San Cataldo e tuttavia però il numero si abbassa lo stesso e il numero dei pazienti ricoverati in malattie infettive infatti sono 40. 563 positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 13 positivi in malattie infettive, sono 604 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 6 ricoverati in ospedale. Ancora l'unico paese covid free è Villalba rispetto a tutti i paesi della provincia, 2302 sono i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia di Caltanissetta. Grazie. Grazie.